Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, piacere Roberto, sono il tuo video, benvenuto a Paracadutismo e tu l'elezzo, adrenalina stamattina come ce l'hai? Discreta, discreta, sta aumentando, pronto a questo lancio? Vai che ci si diverte, ci si vede, eccoci qua, ci parte! Sì, eccoci qua! Sì, eccoci qua! Sì, eccoci qua! Grandissimo! Com'è andata? Fantastico! Divertito? Meraviglioso! Che mi fai? Mitico, grande filoso!